Eccoli qua ragazzi, dunque vedete il mio vestito, mi piace, non so, non so se possiamo vedere Però adesso io cambio la posizione della telecamera e vi faccio vedere il mio vestito dalla camera Ah scusate se vedrete tutto un disordine del letto ma non ci penso neanche a rifare il letto Ma lo rifaccio in un secondo nuovo momento quando dovrò sistemare e rifare il letto insieme a voi Per adesso preferisco di più dedicarmi a farvi vedere il mio outfit un po' casereccio quello che è Ma spero che vi possa piacere ugualmente Per questo video è tutto, adesso vi chiedo di mettermi un bel pollicione di supporto, un commento Attivate la campanella se vi iscrivete e ciao Allora ragazzi questo è il mio vestito come potete vedere, questo è il mio vestito che lo indosso anche per andare alla spesa Non so, per tutti i giorni ma anche perché mi piace indossare un vestito cinesato Cinesato per modo di dire che l'ho comprato ai cinesi ma non importa se è dei cinesi o meno Comunque, questo è il fatto che l'ho voluto comprare, è costato poco, una fesseria, aiuto Bello fresco, scusate i miei impappinamenti ma sono giorni che non ho visto più un piffero di video, più un cavolo di video Ed è per questo che mi impappino a continuazione, perdonatemi Allora, questo è il mio outfit, ovvero il mio vestitino Mi sono fatta anche una bella ceretta fatta, per l'altro non me l'ho fatta fare Vedete, vedete, lo smalto Questo appunto, vi dicevo, è il mio vestito a fiori Oddio, cosa sto facendo? Ok Questo è il mio vestito a fiori Non so cosa si possa ben vedere Ora, mi giro pian pianino E niente E questo è il mio vestitino Sì, lo so che vedete sempre il letto di sfatto Ma vi ho appena accennato prima di non farsi caso Perché in un secondo nuovo video farò il video di rifacciamo il letto insieme, ok? E niente Questo è il mio vestito, come potete ben vedere E la zaino è di là, aspettate un secondo Lo vedete dove? Lì Da questa parte E non si deve che ve lo giro, la telecamera Tanto si vede benissimo anche dall'inquadratura Niente, ribadisco Lì ci tengo a dire che c'è, in quella busta rossa, c'è la mia borracetta Che troppo la riempio Ma non adesso Appena chiudo il video E nulla Questo era il mio piccolo video Per farvi vedere il mio outfit Un bacio Un like, un supporto Un commento Sempre se vi fa piacere Se non basta anche un like E noi ci si vede Ciao Al prossimo video Ciao Ciao